Os 2023 continua, ci troviamo allo stand di Zerica e siamo in compagnia di Alessandro Albanese, il responsabile commerciale per l'Italia. Alessandro eccoci qui, ci rivediamo dopo un po' di mesi. Bentornato. Ciao Fabio, bentrovato, bentrovato a tutti quanti. Un'edizione eccezionale di Ost, come ogni edizione faticosa, impegnativa, siamo giunti già al terzo giorno, siamo molto soddisfatti e pronti ancora per gli ultimi due giorni di esposizione. Tre giorni che sono stati per voi finora impegnativi, lo saranno anche gli altri due, ne sono assolutamente certo perché sono davvero tantissimi i visitatori in fiera ai quali voi state mostrando le novità presentate in questa edizione. Facciamo per tutti loro un riepilogo. Esatto Fabio, Zerica ormai un'azienda nota al panorama, al nostro pubblico e al tuo pubblico. Questa edizione di Ost ci vede protagonisti con una nuova gamma di prodotti che è un po' un aggiornamento e un ammodernamento di macchine già esistenti e già note ai più. Alcune novità importanti che adesso vi racconterò. Abbiamo fondamentalmente voluto concentrare il nostro messaggio e la nostra comunicazione sui tre brand principali di cui uno è quello che fa parte del core business aziendale, Frisca, il secondo è bevi la natura, il terzo è la vera novità ed è mix and go. Frisca racchiude il nostro concetto dell'acqua, il nostro concetto dell'acqua trattata e refrigerata del nostro modo di intendere come l'acqua possa essere gestita in maniera intelligente, in maniera sostenibile soprattutto. un nuovo sistema, un nuovo modello per poter offrire nella ristorazione, nell'hotellerie un'acqua a basso costo che è quella della rete idrica che in Italia è di qualità elevata, di qualità molto buona utilizzando le nuove tecnologie e soprattutto i nuovi strumenti di marketing e di branding. Oggi il marchio Frisca racchiude il concetto dell'acqua di qualità, dell'acqua trattata bene, trattata bene secondo Zerica. Intendiamo per trattata bene, intendiamo un'acqua che viene filtrata per renderla di buon sapore, di buon odore, un'acqua che viene refrigerata e dotata della giusta frizzantezza e della giusta gasatura per dare al cliente finale, all'utente finale, un prodotto di alta qualità. Rebrandizzata in bottiglie che oggi proponiamo in oltre 20 tipologie di forma e di modelli copersonalizzabili da parte del ristoratore. Noi ci rivolgiamo chiaramente a un'utenza che è quella professionale, quella del mondo dei concessionari, dei rivenditori, ma che possono trovare sicuramente in Zerica il giusto partner per poter valorizzare al meglio la loro offerta attraverso il supporto non solo tecnico ma anche marketing e commerciale. Restando nel mondo dell'hotelleria ormai da anni abbiamo un prodotto che è conosciuto, è stato pionieristico in questo ambito che è la natura. La natura oggi ha una sorella maggiore, una natura da back office, una macchina pensata espressamente per l'operatore con possibilità di triple erogazione contemporanea e che non fa mai mancare l'acqua frizzante e l'acqua naturale. Il mondo della natura è racchiuso all'interno del marchio, sotto il cappello del marchio Bevi la Natura, anche qua è un concept, è un contenitore di macchine, di merchandising, di idee e di esperienza da poter trasmettere al cliente. Terminiamo anche nel mondo della notte, questa è la vera novità per Zerica, con un prodotto premiato a host 2023 con lo smart label che è la Mix & Go, un cocktail maker in grado di offrire un'esperienza di consumo e di preparazione prima di tutto del cocktail, attingendo direttamente agli ingredienti naturali, quindi direttamente dalle bottiglie per la preparazione di un cocktail come se fosse fatto da un barista. La mano del barista chiaramente è altamente importante perché occorre nella preparazione, nella shakerata, nello steering del cocktail ma soprattutto nella trasmissione dell'esperienza che il cocktail deve dare all'utente, al consumatore. Bene, allora prima di passare a questo cocktail tu molto gentilmente andrai ad offrirmi l'orario è giusto, ti invito a pronunciare l'indirizzo di posta elettronica da poter comunicare a tutti loro per mettersi in contatto con voi, richiedere maggiori informazioni e chissà magari iniziare una relazione commerciale con Zerica. Noi abbiamo il nostro sito chiaramente di riferimento che è quello aziendale, zerica.com, l'indirizzo email è info-zerica.com, abbiamo voluto realizzare anche un sito dedicato proprio alla qualità dell'acqua che è friscawater.com, anche lui con una propria email di riferimento che è info-friscawater.com. Alessandro, grazie, è il momento del cocktail. Grazie a te Fabio, un saluto caro a tutti.